Ritiene che non servirebbe a nulla salire sulle barricate per la vicenda vasche di laminazione. Il sindaco di Nocera è inferiore Maglio Torquato, la sua convinzione dice, deriva da quello che fu l'esito della battaglia contro il mostro ad otto teste rappresentato dal megacasella autostradale che alla fine, nonostante tutto, è stato comunque spostato da Salerno a Nocera. Meglio dunque battere un'altra pista a suo modo di vedere, ovvero cercare di scongiurare almeno gli effetti collaterali di un progetto che è comunque di riqualificazione idraulica. La seduta consigliare, ieri ha votato all'unanimità un atto di indirizzo volta ad ottenere risposte chiare sul temuto inquinamento, sul dimensionamento del progetto, sulla lacuna, evidenziata dalla relazione del Presidente della Commissione Urbanistica, rappresentata dalla mancata indicazione di fondi destinate alla manutenzione delle vasche dopo la realizzazione ed anche al soggetto potenzialmente incaricato di svolgere quel compito, tanto per esorcizzare il pericolo che l'onere si abbatta poi sui comuni. Che sono memore dell'esperienza della questione barriera, dovebbe una posizione integralista e intransigente, e lei lo ricorderà, fu fatto sequestrare il cantiere con un decreto da parte del sindaco, con un provvedimento da parte del sindaco di allora, Aldo Di Vito, io fu il principale, diciamo, artefice di quella confusione, di quell'ostruzionismo. Non ne cavammo un ragno dal buco, la verità è che poi ce la siamo trovata alla barriera d'Australia e là dove. Allora io credo che in queste situazioni, quando ci sono istituzioni che sono preponderanti anche in termini di supporto politico, vediamo il fatto che i comuni condividono la realizzazione di questo progetto Grande Sarno, Grande Progetto Sarno, ha senso cercare di ragionarci e trovare degli accorgimenti. Si spera che a presto si organizzi qualcosa per gruppare tutte le forze e concentrarci su quello che è possibile ancora fare. La forza va fatta nei confronti della regione, soprattutto in persone dell'assessore Cosenza che già in fase dell'audizione, l'altro giorno dove eravamo presenti pure con il sindaco, ha fatto capire che per loro la pressione è di tipo economico. La necessità dei lavori viene messa quasi in secondo piano, tanto è vero che noi abbiamo l'emergenza di quella di San Mauro che ricorda appena un anno fa l'esondazione che c'è stata e loro si accingono ad emettere una delibera per emergenza con un impegno spesa di circa 4 milioni di euro. Questo ci fa capire che se la regione vuole intervenire può intervenire anche autonomamente. Grazie.